Ragazzi, è un pomeriggio che è fresco, siamo qui a Barcarello, sono arrivato verso le 12 e mezzo e adesso è arrivato finalmente qualcosa, ho mangiato su un amo abbastanza piccolo, un bellissimo pizzuto, un bellissimo pizzuto. Molto bello, almeno non lo so, non avevo mai preso un pizzuto, quasi grande, è bellissimo. Ragazzi, non avevo mai preso un pizzuto, è bellissimo, poi come promesso vi faccio sapere quanto pesa. Ciao, alla prossima.